Un anno dopo il lockdown annunciato il 9 marzo 2020, la Regione Toscana ha presentato un libro fotografico di quel periodo di sospensione d'emergenza che significò per l'Italia l'inizio della pandemia da Covid-19. Il libro si intitola appunto Lockdown, un anno dopo, e la pubblicazione è curata dal Consiglio regionale. Nel sottotitolo si legge i 12 mesi che hanno cambiato le nostre vite nel racconto e nelle immagini dei protagonisti dell'informazione toscana. Ma è un libro che riesce a offrire un quadro per cui noi facciamo memoria, ma la memoria è l'ingrediente fondamentale per guardare al futuro. Proprio quello che è accaduto in quest'anno per una pandemia, quale è il Covid-19, ci insegna che proprio i rapporti col clima, con la stagione, con quello che è avvenuto, ci dà una bella indicazione di lavoro per il futuro. Si tratta di un volume giornalistico principalmente fotografico, con immagini di vita quotidiana scattate dai fotografi delle principali testate di carta stampata della Toscana, cioè Corriere Fiorentino, Il Tirreno, La Nazione e La Repubblica. Le foto sono di Claudio Giovannini, Massimo Sestini, Franco Silvi, Dario Marzi, Massimo Matelli, Paolo Barlettani e Fabio Muzzi. È un po' un ricordo per immagini di come è cambiata la nostra vita, dalle piazze vuote alle terapie intensive piene, ma è anche un segnale di speranza, la speranza che ci dà Toscana Life Science con gli anticorpi monoclonali, le prime vaccinazioni. È un modo anche per mandare un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini del ruolo che svolgete tutti voi come informazione. Alla presentazione del libro erano presenti anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Carlo Bartoli, e il presidente dell'Associazione Stampa, Sandro Bennucci.